Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video dei Faction In tanti mi avete chiesto di continuare la serie e ho stoppato quella in Trade Cloud perché non mi piaceva più di tanto E quindi non ci giocavo molto e sarebbe stato inutile continuare la serie in quel server Ma Ermac ha trovato questo bellissimo server dove sto giocando già da un po' di tempo Mi sto divertendo tantissimo e ho deciso di riniziare la serie e portarla con più costanza Quindi intanto se volete la serie dei Faction lasciate un bel mi piace per supportare questo episodio E tutti gli altri e come vedete già ci sono parecchi italiani qua in questo server perché Ermac ci ha già registrato Io ci ho giocato un pochetto sono livello 4 e questa è il mio equipaggiamento, la mia armatura e quant'altro Perché adesso intanto andremo ad aprire un bellissimo Epic Crystal quindi un cristallo epico E vi spiego un pochettino come funziona questo server Ci troviamo intanto con l'1.10 quindi non ci sarà il PvP spastico di cliccare velocissimamente Ma bisogna fare PvP come se fosse l'1.9 invece siamo nell'1.10 Adesso con questo grandissimo Magma Cube possiamo aprire tutti i cristalli che troviamo nelle varie ceste E ci darà diversi pezzi di armatura Dovrei teoricamente trovare un pezzo di armatura epico quindi vediamo cosa riusciamo a trovare Che come vedete tutti i pezzi di armatura adesso sono epici e speriamo di trovare qualcosa di buonissimo Abbiamo trovato dei pantaloni in diamante epici con Protection 1 e Slows 1 Ora vediamo subito che cos'è questo Slows perché basta fare Enchants in chat Ci spunteranno le spiegazioni di varie in chante per le armi Per... che cavolo ho fatto? Per l'arco che ancora non me lo fa aprire non so perché Ah perché ancora non c'è nulla per l'arco E poi per l'armatura quindi noi cerchiamo Slows Che dovrebbe essere qua vicino all'incirca Dov'è 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 dov'è? Vediamo... voi l'avete visto già ragazzi perché io ancora non riesco a trovarlo Ecco Slows E dice Slows your enemy when they attack you Quindi li fa diventare più lenti quando mi attaccano Per cui sono dei buoni pantaloni Io come vedete ce li ho già però in oro E attualmente li voglio andare a conservare nell'Ender Chest Perché non voglio perderli In quanto adesso andremo a fare un pochettino di esplorazione Come vedete c'ho altra roba qua nell'Ender Chest Importantissime ragazzi le Ender Pearl Importantissimo scappare quando vedete che una persona è più forte di voi e vi sta massacrando E soprattutto importantissimo salire di livello Io sono livello 4 e questo mi permette di aumentare le mie skill Infatti ho messo la mia spada, la potenza della mia forza Che sarebbe la spada a livello 4 E livello 4 anche i miei cuoricini Infatti c'ho 4 cuori in più come potete ben notare Adesso vi faccio vedere, vi porto un pochettino in giro per la mappa Perché entrando nel portale ci porta nella Warzone Dove possiamo uscire e andare alla ricerca di varie chest Che ci daranno sicuramente tante cose Come vedete adesso c'è tanta gente per cui se riuscissimo ad uscire magari in modo un pochettino più sneaky Senza farci vedere da tutti che sono pronti a targettarci Sarebbe la cosa migliore Perché attualmente rischio veramente la vita Se qualcuno mi attacca Chiunque mi possa attaccare mi ammazza Perché sono ancora parecchio nabbo Sia perché non sono bravo col PvP 1.10 Sia perché il mio equipaggiamento non è questo granché Per cui iniziamo un pochettino a scappare con l'Ender Pearl E cerchiamo anche di fare qualche kill in questo episodio Sono nella fazione di Hermak per chi me lo chiederà Ovvero negli intrepidi E non chiedete di entrare Sarà Hermak a scegliere se potreste o meno entrare Le regole sono semplici Dovete essere bravi Brave persone Questo intanto riesco a ucciderlo molto probabilmente Dovete essere anche un pochettino forti Quindi dovete avere esperienza Ma principalmente facciamo entrare chi si comporta bene nel server Ok là abbiamo una chest Ma io vorrei uccidere lui Perché uccidendo le persone riesco a prendermi livelli Quindi sono vicinissimo al livello 5 Che mi darà parecchie robe Però questo qua scapperà tutta la vita Fino a quando non riesco a tirargli un altro hit Nice Adesso ho 10 E sta provando a combattere No non sta provando a combattere Sono riuscito a ucciderlo E come vedrete ragazzi mi manca uno sputo Al livello 5 Ovviamente Faremo crescere il mio personaggio insieme Quindi Porterò sempre tanti video su questa fazione Su questo server Per farvi vedere i miei progressi E se avete dei consigli Dateveli qua sotto Perché è importantissimo per me Come sapete non sono bravissimo ancora Nei server faction Ho tanto 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 da imparare Ho anche tanto da farvi vedere in questo server Perché è immenso È una cosa fenomenale E adesso entriamo nella foresta oscura In cerca di qualche chest E soprattutto Siamo lontani dai guai Perché non voglio la gente forte che mi ammazzi Ok abbiamo trovato un po' di exp Quindi forse arriverò al livello 5 Vediamo Sì sono arrivato al livello 5 E aumentiamo le nostre abilità Le nostre skill Voglio continuare ad aumentare La spada Quindi la mia forza E anche la vita Quindi adesso abbiamo 5 cuori E togliamo sicuramente molto di più Perché abbiamo ben 5 di forza Nel nostro personaggio Consigliatemi Ovviamente se sto sbagliando Ditemelo qua sotto nei commenti Se dovrei aumentare Non lo so Difese Fare insomma Diverse altre combo Perché attualmente sto facendo la combo Della forza e della vita Però magari Non è la migliore Quindi fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Perché sono tutto orecchie Tutto occhi E leggerò i vostri consigli Continuiamo a prendere pozioni Che non mi servono a molto Perché per ora Non ho intenzione Di mettermi a fare pvp E aumentiamo un pochettino La render distance Così vedo Vedo anche un pochettino meglio Qua abbiamo un cimitero Cosa troviamo nel cimitero? Ci sarà qualche cesta nascosta? Sì 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 C'è una cesta nella tomba Vediamo un po' Di aprirla E ci ha dato una strength Per 8 minuti Non male Non male assolutamente L'ip ragazzi Se volete lo troverete Qua sotto in descrizione Se volete venire a giocare Pure voi Così magari diventate Degli esperti Venite qua a nerdare E poi potete aiutarmi Sotto i commenti Ancora una volta Vi ripeto e vi consiglio Di lasciare un bel mi piace Per questo episodio Perché è con il vostro supporto Che andrà avanti La serie Altrimenti io Se vedo che non siete interessati La interrompo Ma comunque A parte Ermac In Italia Pochissimo Quasi nessuno Fa faction Per cui sono contento Di poterlo portare anch'io Quando lo facevo in Fate Cloud Piaceva a tutti Infatti aveva un supporto fenomenale Ma purtroppo Quel server non mi divertiva Più di tanto E questo qua invece Sembra promettere Leggermente meglio Posso vendere Con l'ossidiana Infatti fino ad ora Sto cercando di fare questo Di vendere in continuazione L'ossidiana Per fare tanti soldini Infatti come vedete Attualmente c'ho 12.000 dollari Nella mia banca E non è male Anzi È abbastanza discreto E soprattutto Io adoro questo territorio Adoro il fatto di Andare ad esplorare in giro Per cercare le chest Per vedere cosa possiamo trovare E la missione di oggi Sarà quella di trovare Un altro cristallo Da poter aprire Nel video Quindi vediamo se qua dentro C'è un bel cristallo No Però abbiamo trovato Una spugna Un uovo di ocelot E di villager Non so cosa possa servire Sinceramente Perché ancora non ho idea Di a che cosa servono Le uova Quindi fatemelo sapere Nei commenti Se voi lo sapete Smettiamo di andare lenti Per favore Perché non mi piace Passare là E qua c'è una specie di Sono tipo Ossa di stegosauro Oh mio dio C'è It's unto No 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 Lui è il livello più alto di me Mi ammazza Mi ammazza come niente Questo Quindi devo iniziare a scappare Le enderpearl Non ce le ho In inventario veloce Quindi mettiamole subito Perché non posso rischiare Di fare un pvp Contro qualcuno più forte di me Eh sì Se continui ad inseguirmi Sarò costretto A utilizzare le enderpearl Spero non l'abbia vista Quindi teoricamente Dovrei riuscire a scappare Da lui Oh qua c'è un'altra persona Lui lo posso uccidere invece Non credo Si è messo benissimo Infatti sta cercando di scappare Caro il mio Tommo Tommo 26 Ci sono tantissimi italiani Per cui Sono contento anche di questo Perché possiamo almeno Giocare tutti insieme Posso giocare con i miei fan Sono contento di questo Eh Non lo lasceremo di certo scappare Per cui continuiamo a inseguirlo Tiriamogli un'altra sparata Se ci riesco Anche se ne dubito Perché avrà Tantissime enderpearl E io ne ho pure altre tante Oh è caduto Ok ora è bloccato Praticamente A meno che Utilizza ancora l'enderpearl Un altro hit E sei morto Ok ora mi prendo Le sue enderpearl Intanto Se riuscissi ad entrare Qua dentro Mannaggia Eh c'ho l'autosalto Ragazzi è attivato Quindi è un po' un problema Eh ci aveva dei cristalli Ok quindi abbiamo rubato I cristalli A un nemico I pantaloni Le robe in In oro Me le conservo Perché le posso vendere In cambio di exp Tutta questa armatura È utile Tutta l'armatura in oro Eccetera eccetera Le spade anche Me le conservo Buttiamo questo Ok e torniamo immediatamente Allo spawn Perché torno allo spawn Prima di tutto Perché qua non sono al sicuro Anzi non sono proprio al sicuro Per niente Poi posso vendere tante robe E ho anche un piccone Che cercavo da tanto Fantastico Così posso andare a prendere i minerali Allora vi faccio vedere Exp trader Posso mettere Queste armature Che non sono tutto sto gran che credo O almeno questa sembrerebbe essere buona Però non fa nulla La posso vendere per dell'exp Posso mettere anche Questo E la spada no La spada non la posso mettere Ho detto una stronzata Ok e adesso posso utilizzare Questa exp Per salire pian piano di livello Mettiamocela qua Così nessuno me la ruba Ok Adesso vediamo Ci abbiamo un cristallo Raro Quindi vediamo cosa può uscire Dal cristallo raro Sono proprio curioso Vediamo cosa posso trovare Dai 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 Boom Potrei trovare veramente di tutto Ragazzi Potrei trovare qualcosa di fantastico Come potrei anche trovare nulla Come tipo Della TNT Invece ho trovato un elmetto Con Bane1 Che cosa è Bane? Andiamolo a guardare insieme Enchants Cerchiamo Bane Dov'è Bane? Ma ragazzi Sono cieco io Non lo vedo Bane Intanto lui mi ha regalato qualcosa Oh Last Stand 1 Protection 1 Rarity Leggendario Oh mio dio ti ringrazio Dicevo sono scemo io Non riesco a vedere Bane To sta Bane Amico mio dove sei? Dove ti nascondi? Intanto Last Stand Che ce l'ha regalato lui Dice Chance to give you regeneration At low health Quindi mi darà regeneration C'ho delle chance Di avere regeneration E intanto io non riesco a trovare Bane Per quale motivo ragazzi? Fatemi sapere nei commenti Cosa è questo Bane Se è raro Se dovrei tenermelo Oppure se dovrei andare a venderlo E adesso andiamo un attimino A casuccia Nella casa di Ermac Perché attualmente Condividiamo un appartamento insieme noi E andiamo a posare Un pochettino di queste robe Che ho trovato Come per esempio L'ossidiana Allora mettiamo qui Tutte queste pozioni Me le tengo Perché tanto ne abbiamo tantissime Vi faccio vedere Ecco siamo pieni di pozioni E gli butto anche questo diamante Delle enderpearl Il piccone me lo tengo gelosamente Invece Perché il piccone lo voglio Lo volevo a tutti i costi E finalmente sono riuscito a prenderlo Perché potrò andare a farmare adesso Delle robe Allora buttiamo questo Che non mi serve a nulla E rimettiamo la TNT qua Questo pure Poi ripeto Se sto sbagliando Fatemelo sapere nei commenti Che per me è importante Imparare E sono importanti I vostri consigli Buttiamo anche via questo E questo E mettiamoci questo qua Io ragazzi Spero vi sia piaciuto questo video Faremo tante altre cose Adesso qua nel faction Lasciate un bel mi piace E datemi dei consigli Qua sotto nei commenti Per farmi imparare A giocare in questo server Se voi avete Bisogna Grazie a tutti.